Anche per esempio un'iniziativa sul fronte degli imprenditori, io credo che, però bisogna anche dire con quali imprenditori, vuole che gli dica una cosa, provate voi che fate i sondaggi, andare a prendere gli imprenditori, diciamo 100 imprenditori italiani di quelli che esportano, che sono collegati alle reti internazionali, che hanno imprese innovative e poi a quelli lì gli chiedete, siete d'accordo sul salario minimo? Io ci scommetto che il 99,9% dice sì, voglio collegarmi a quegli imprenditori lì. Eli Schlein, lei a quali imprenditori si vuole collegare? Quando parla con gli imprenditori vede nei loro occhi che si immaginano che sia lei la Presidente del Consiglio invece della Meloni, la vedono come una prospettiva reale quando ci va a parlare? O come dice Bersani, molti non hanno le lenti bifocali, magari perché è troppo giovane, magari perché è donna, magari quello forse ormai l'hanno digerito. Ma lei quando parla con questi interlocutori vede che loro la vedono come una possibilità di governo del Paese? Guardi, io capisco che per la destra chi porta avanti battaglie di giustizia sociale come quella per il salario minimo è appena uscito da un centro sociale, insomma alla sinistra radicale. Ma guardi, ha ragione Bersani su questo. Ha ragione Bersani. Il mondo è più avanti di così, anche un gran pezzo dell'impresa italiana è più avanti di così. Siamo stati in grado di innovare, ne parlavamo oggi con i colleghi europei, sul settore dell'economia circolare. La politica in questi anni, soprattutto a destra, non se ne è nemmeno accorta. E se non mettiamo in campo una politica industriale in questo Paese che gli aiuti, gli ascolti, gli accompagni nelle trasformazioni che servono, ma noi rischiamo di perdere un treno che non torna più. Invece che piagnucolare per chiedere all'Europa di spostare delle scadenze, quello che un governo italiano serio dovrebbe fare è pretendere proprio per la vocazione e tradizione industriale che noi vantiamo, un più massiccio finanziamento europeo sulla transizione digitale, sulla conversione ecologica. Voglio dire, ma questo bisogna fare perché l'impresa italiana in buona parte c'è già arrivata. Io penso che il Next Generation EU, che il Partito Democratico si è battuto per ottenere mentre il partito di Giorgia Meloni votava diversamente, è esattamente quello che serve.